Professore, che cosa dovrebbero gli amministratori di oggi, i politici di oggi, imparare di Lapira? Credo intanto l'importanza della comunità, intanto della piccola comunità associativa, della piccola comunità anche familiare che ci sta intorno, anche della comunità di preghiera che ci sta intorno, perché l'amministrare è una cosa dura, è una cosa difficile. E poi imparare il fatto che il sindaco è sindaco di tutti, di chi l'ha votato e di chi non l'ha votato, e questo è vero per ogni amministratore, ma è sindaco in particolar modo di coloro che non hanno le spalle sufficientemente larghe e la voce sufficientemente forte per difendersi da soli. Lui disse una volta a una riunione della conferenza di San Vincenzo in cui passò per pochi minuti, disse questa frase, ragazzi da domani dovete pregare con il mappamondo sul comodino, cioè avere questa globalizzazione della preghiera, cioè agire localmente ma pregare globalmente.